bene ragazzi e bentornati in un nostro nuovo video oggi andiamo precisamente a smontare il game boy il primo modello il dmg ok andiamo a gli dagli una nuova vita quindi attraverso un nuovo schermo ips un pochino più grande circa l'undici per cento e gli cambieremo anche la shell in questo video vedrete che c'è un piccolo processo di saldatura di saldatura e saldatura che è dello speaker in particolar modo noi l'abbiamo fatto per la prima volta funziona abbastanza bene quindi non è difficilissimo però chiaramente dovete impratichirli nel caso che non volete però saldare lo speaker vi metterò in descrizione comunque un link anche della scheda dello schermo con lo speaker già saldato quindi non vi preoccupate mi raccomando seguite tutti i passaggi e ridiamo vita insieme al nostro game boy già Alla prossima 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 Alla prossima